Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io per lo SPAL07 e anche oggi parliamo di SPAL. Sigla! Domenica 7 ottobre, ore 20.30, stadio Paolo Masta di Ferrara, SPAL-Inter. L'avversario sarà l'Inter di Luciano Spalletti, il primo vero squadrone che viene a far visita alla SPAL quest'anno a Ferrara. L'Inter è una squadra che è in forma smagliante, lanciatissima, è alla quinta vittoria consecutiva considerando anche le vittorie in Champions League e quindi avendo giocato già mercoledì sarà lecito pensare che secondo me non farà turnover ma comunque qualche pedina Spalletti verosimilmente la cambierà giusto per una questione di stanchezza e per una questione di minuti nelle gambe. L'Inter dovrebbe scendere in campo con il suo solito modulo, un 4-2-3-1, molto offensivo, con Andanovic in porta, dovrebbe rientrare Versalico, Skriniar, De Vrij e Samoa, a centrocampo Vecino, Brozovic e poi ci sarà un balottaggio con Keita favorito, Naigolan e poi alla fine Candreva e Icardi, è la formazione più probabile. La Spalli invece non cambierà fondamentalmente niente, rientreranno quelli che erano rimasti in panchina Genova per una questione un po' di turnover e quindi giocherà in porta a Gomis, giocheranno Conec, Vicar e Felipe perché Giroud ha accusato un risentimento, giocherà Lazari sicuramente, Curtis è fuori per infortunio al gomito, starà fuori un paio di mesi, quindi si è rotto il gomito contro il suo suolo, quindi dovrebbe partire Everton Lewis il favorito, Schiattarella è nel ruolo di mediana, con Missiroli Costa favorito su Fares e là davanti ci sarà Paloschi che si è per certo del posto e un balottaggio fra Antenucci e Petagna. Rispetto alle ultime partite la Spalli ha un punto di vantaggio, nel senso che l'Inter è una squadra un po' più fisica rispetto alla Sampdoria e alla Sassuolo che erano prettamente squadre tecniche e la Spalli ha fatto vedere quest'anno che con le squadre tecniche quando le prendono in velocità ed infilata ha sempre fatto fatica, soprattutto con Sassuolo e appunto con la Sampdoria abbiamo sofferto tante situazioni in fase d'attacco. Però c'è che l'Inter è una squadra molto più forte secondo me delle due che ho precedentemente detto e quindi c'era molto 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 difficile fare il risultato a Ferrara. Infatti io, insomma, è vero che si parte per vincere, ma io per un pareggio metterei la firma. Però non è impossibile, non è impossibile perché comunque la Spall ha dimostrato che se dovesse passare in vantaggio poi diventa molto difficile fargli gol, a meno che non si faccia un'azione di quelle clamorose tipo quella della Sampdoria. Quindi è vero che sarà l'Inter a fare la partita perché l'Inter farà una partita molto diversa rispetto a quella dell'anno scorso. L'anno scorso hanno aspettato l'avversario ma l'Inter di quest'anno ragazzi è due, tre, anche quattro spanne sopra rispetto a quella dell'anno scorso. La Spall dovrà fare la sua partita, dovrà attendere, essere attenta in difesa e poi magari cercare di colpire il contropiede e se per caso dovessimo riuscire ad andare in vantaggio poi chiuderci in difesa perché diventerebbe difficile poi in quel caso fare gol. Però, insomma, è abbastanza difficile. Però non è impossibile, ripeto. La Spall ha fatto due ottime partite, le ultime, quindi dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo continuare, dobbiamo scendere in campo con la cattiveria giusta e poi dopo in queste partite quello che viene in più è tutto di guadagnato, quindi testa sgombra e mettiamo in difficoltà l'Inter e poi dopo vediamo quello che viene. Quindi io ragazzi, speriamo di vincere ma firmerei comunque per un pareggio. Bene ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, condividetevi, scrivetevi nei commenti cosa ne pensate di Spall l'Inter, di cosa deve farci con voi la Spall per provare a fare il risultato contro l'Inter. Vi ringrazio come la soglia di tutti i commenti che mi lasciate e noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Sempre Forza Spall!